Uh, meglio vedere che cosa succede. Sì, meglio. Ho capito, smettila! È tutto a posto? No! Sì! No! Ti facevo solo vedere che se stringo gli occhi il coltello si muove, vedi? Oh mio Dio, senti a... Non lo faccio! La smetta di muovere quel coltello! Doverete vedere il game battaglia, Stuart l'ha fessato come un tamburo! Sì! Ok, fermo, adesso Stuart ha un coltello ficato in testa. Su, concentrati, Stuart. Quanto fa 14 più 4? 18. 27 meno 13? 15? No, 172 meno 60. Non ne ho idea, ma non per il coltello, solo perché sono ubriaco. Oh, in realtà è perché è stupido. Grazie, David. Davvero? Incredibile, a livello neurologico è perfettamente a posto. A parte le capacità matematiche, è come se il coltello non avesse fatto danni. Allora perché non glielo tirate fuori? Perché noi dobbiamo andare alla partita! Vendiamo a questo! Oh no! Niente birra! Questa festa! Oh oh! Ehi! No, ehi! Ma quante birre avete? Ehi!